Sono passato dal liceo artistico all'Iple grazie a un volantino che ha trovato mia madre e la ringrazio perché mi ha salvato il mio futuro. Ma perché solo fare dei progetti quando si può anche imparare come si può fare una cosa? E allora lì mi è venuta la passione e ho detto adesso faccio questa scuola qua. Grazie ai laboratori Iple dove ho lavorato e a questo periodo di stage sto mettendo in pratica quello che ho imparato e sto realizzando il mio sogno. Per le imprese è tanto importante avere un rapporto, iniziare un rapporto con ragazzi che siano motivati e che abbiano già un piccolo bagaglio tecnico ma anche un grande bagaglio di conoscenza relativamente a come ci si comporta in un cantiere. Quindi i corsi che questi ragazzi hanno quando escono dalla scuola sono di fondamentale importanza appunto per le imprese.